Buonasera a tutti, l'argomento di oggi è un argomento che salta fuori spesso tra appassionati di auto storiche. Auto d'epoca tutti i giorni, sì o no? Daily driver come dicono gli inglesi. Ognuno ha un po' la sua risposta, io vi dico la mia perché comunque sia l'esperienza di circa 25 anni con le auto storiche mi ha portato, ma già dai primi momenti, a maturare una convenzione personale. La mia risposta è no, mai nella vita l'automobile d'epoca come daily driver e come automobili di tutti i giorni senza avere un'alternativa. Io comunque sia ho fatto una breve esperienza, quando avevo circa 20 anni avevo una vecchia Mini Cooper 1300 e questo mi ha portato comunque a fare dei bilanci e a capire che è meglio girare con la macchina moderna. Poi vecchia magari, una macchina di 10-15 anni non ha niente da invidiare a quelle di oggi perché l'automobile segna il passo da un po', però comunque sia una vettura moderna. Il tempo non passa in vano, ci sono varie ragioni per cui non gradisco girare tutti i giorni con una macchina d'epoca. Cito Mauro Valli, che è uno che sulle automobili, specie quelle americane, la sa lunga. Automobili d'epoca non sei tu che hai bisogno della macchina, ma è la macchina che ha bisogno di te, per cui ci sono tutta una serie di attenzioni e di necessità che non sono separabili dall'auto d'epoca. La prima riguarda comunque la sicurezza. Le automobili d'epoca non sono sicure, in caso di urto si è esposti veramente a dei rischi incredibili. Traffico di oggi, io abito a Milano, a Monza, probabilmente se abitassi in un'altra zona d'Italia potrei permettermi di pensarla diversamente, ma qui il traffico è veramente selvaggio, per cui muoversi con un'automobile che sicurezza attiva e passiva è poca, non dico mi spaventi, perché lo faccio abitualmente poi nei weekend, però comunque sia non credo che ragionevolmente valga la pena. La macchina comunque sia sicurezza passiva, come dicevamo prima, piantoni puntati nel petto, serbatoie esposti negli angoli, portiere senza la minima protezione, vetri temprati, francamente non è ragionevole esporsi a questo rischio tutti i giorni nel traffico settimanale, oltretutto, per cui questa è la prima ragione. La seconda ragione è la sicurezza attiva, invece le cosiddette caratteristiche di guida, cioè noi guidiamo delle macchine, quando guidiamo delle macchine storiche che non hanno un comportamento pari a quello delle automobili moderne, hanno una tenuta di strada diversa, una frenata diversa, magari hanno anche i freni a tamburo, tendenza al bloccaggio, bisogna stare molto attenti quando le si guida, bisogna guardare quello che riguarda noi e mettere occhi anche per gli altri. Io questa serie di attenzioni non mi sento francamente di darla durante la mia settimana lavorativa, cioè non voglio rogni e non voglio pensieri, dove invece nel weekend non ho nessunissimo problema, il traffico è diverso, la predisposizione è diversa, se succede un problema con la macchina durante il fine settimana, insomma siamo lì e abbiamo il tempo per risolverlo, non succedono problemi lavorativi o comunque con le esigenze della vita di ogni giorno. La macchina poi a usarla tutti i giorni si espone comunque a un rischio diverso, ora dove io vi ho sempre detto che la macchina d'epoca è bello guidarla, mi riferivo a un altro tipo di situazioni, perché comunque portare avanti l'uso di una macchina storica tutti i giorni, magari con dei chilometraggi importanti, la macchina poi si consume e si rovina, non è la macchina nuova che finita quella ne compri un'altra uguale e chi se ne frega. Lì ci servono altre attenzioni, poi se dovesse guastarsi c'è sempre il tempo per avere i ricambi, per lavorarsi, per lavorarci tu o trovare una persona che ci lavora, insomma è tutto un altro film, per cui non lo so, come vi dicevo prima, probabilmente se io abitassi sulle colline dell'Umbria, in un posto dove in 5-10 km arrivo al lavoro, esco dal mio garage e poi la macchina sta tranquilla in un posteggio, magari al chiuso mentre io lavoro, magari la penserei diversamente. Purtroppo abito a Milano, capita poi di dover parcheggiare la macchina in strada e trovarla praticamente sempre rovinata, perché in città portierate, colpi sui paraurti strisciate non si contano. Oltretutto un'auto d'epoca attira anche l'attenzione quando è parcheggiata, per cui rischiamo il dispetto, rischiamo che ci levano col cacciavite le lettere cromate delle scritte della macchina insomma, meglio di no secondo me. Vorrei però sentire la vostra opinione sotto questo breve video nei commenti, perché comunque sia, penso che qualcuno che usa ancora la macchina d'epoca tutti i giorni per muoversi e spostarsi e per le esigenze lavorative ci sia ancora. Per cui fatemi sapere nei commenti come la pensate, questa è la mia opinione, oggi facciamo un video breve, ma ci tenevo a sentire la vostra su questo tema. Grazie e vi saluto. Ciao al prossimo video, ricordatevi di iscrivervi al canale.